cerchi prodotti pokemon a prezzi bassissimi visita il sito stake collection punto it e dai un'occhiata a tutto il catalogo è possibile preordinare i prodotti in uscita e se superi 60 euro la spedizione è gratuita non dimenticare di iscriverti alla newsletter così sarai sempre informato sulle novità dal mondo pokemon link in descrizione ciao ragazzi e bentornati in un nuovissimo video unboxing sfida con la mia fidanzata ciao mi raccomando prima di iniziare iscrivetevi al canale lasciate un like mi raccomando importantissimo così mi date il vostro supporto e mi fate capire che questi video vi piacciono dunque siamo pronti per spacchettare la seconda parte del box la prima parte è finita sul pareggio due punti e due punti una full art e poi anche una v max e una v max tutte e due sui 4 5 euro quindi niente di spettacolare speriamo che ci sia ancora qualche bella bestiola qui dentro quindi ne sono rimaste se la matematica non è un'opinione 18 ne dobbiamo scegliere 9 e 9 dobbiamo fare come l'altra volta le peschiamo almeno finiamo il video così allora 3 4 o vedevi dal tempo però se ne vedo è quella la volevo io vedi mi devi tanto 5 pure quella fai tu guarda delle sei scelte vuoi non dire se le sei scelte dove ha lasciato quelle dai dai che scegli sempre se perdi pure così guarda è proprio la prova schiacciante che c'hai che sei sfigato ho iniziato io volevo fare iniziare a te perché la prima parte l'hai iniziata tu però perché se inizio io c'ho un po più di ansietta capito perché poi se allora l'hai iniziato è ormai allora comunque credo di aver visto un bordino già no scherzato agata kirlia narciso sciapette coffing yamask e snover cast form e bounce with e graplot niente ragazzuoli mi raccomando vi ricordo che attivo il mio codice sconto gab 97 per il 10 per cento di sconto su grab quindi se dovete far gradare tutte le vostre carte mi raccomando ve lo ricordo in ogni video perché è veramente molto molto utile molto molto comodo avere un piccolo sconto perché far gradare le carte costa veramente tantissimo dunque prima bustina anche per l'ugrezia speriamo sia vuota ovviamente cimitero è un bello 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 gengar ancora non l'avevamo trovato gengar ragazzi come penso saprete se mi seguite su instagram e penso sia il mio pokemon preferito al primo posto in assoluto che brutto bello mi piace un box ma che se ti incapisci niente allora via secondo pacchetto chissà che esce perché abbiamo trovato solamente due carte nella prima metà quindi o il box è fallato nel senso che non c'è nulla o escono tutte qui qui dovrebbero uscire spero se è un buon box almeno cinque carte anche via eccola c'è mi chiamata blaziken v max e blaziken v se me la scelta e adesso fai spazio a me no adesso mi devo riuscire a fuori serie di blaziken però sembra da tutti i due si convinto tu mamma che bello quello stile non so come chiamarlo però tipo stile disegno quello con le tifo graffiti su un urbano allora seconda bustina vai una è uscita e in questo momento stiamo tre a due senti dopo però non faccio rotone ralzo non lo fai perché sei alternativa come le carte wheezing che è successo era un po che lo spacchettavano e hai perso un pochettino dall'ultimo secondo me è colpa del box secondo me le carte ormai se sono un po stufate che hanno detto adesso guarda si saranno pure stufate ma tanto tu a prescindere non le trovi quindi guarda vedrai 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 che cartina che ti trovo in questo box vedrai a roma a tenna cast form lapras stupendo e 0 ora e siamo a quattro raga vi vorrei far vedere la faccia di lucrezia in questo momento perché non se l'aspettavo perché mi sminuisce le cartine le trovo piano piano senti una volta che ti dice un po fortuna non dire che fai così ricordate sempre di mandarle un po giù perché tu mi metti l'anzietta con quelle forbici 4 4 4 4 a 2 poi chi ti sente dai però pure l'altra volta ho preso due punti da vantaggio poi tac un pacchetto ma guarda e sa qui quella importante proprio l'ultimo il problema se faccio un altro i due punti no c'è qualcosa te l'ho detto il cimitero occhio alla prossima mettere un po ok marip comunque c'è qualcosa vabbè dai mamma pure tu ammazza che figa tu hai trovato la dimox e poi hai trovato la ve si madonna veramente manco a farla apposta allora aspetta che ho finito le sleeve intanto questa luce non va bene perché non si vedono bene i colori eccola qui guardate che splendide vita un euro quindi me ne manca un'altra per recuperarti e poi ne trovo un'altra per vince ok perfetto ok i piani ci stanno puoi andare poi bisogna vedere se li realizzi se li realizzi allora codice gli tiro fuori sta full art allora sofora sileo rudy cast form widdle snorant cra brawler slowpoke agron che devi dire fuori ancora sto in vantaggio ancora sto tranquillo è un punto dopo questo non sei più in montaggio scommetti vai immagini veramente guarda arrivati a questo punto mi sta saliendo un po di ansia perché non troviamo nulla in generale quindi anche se la trovi tu perdo volentieri guarda come squadri male sei da carcere ah cacchia dai gallega ma dai ma non puoi vedere non meriti neanche ero curiosa vabbè facciamo vedere quello che c'era giusto per però non c'è un cacchio ero troppo curiosa volevo vedere proprio faccia alle carte è per questo che le carte non ti faranno vincere in questo video io invece dopo centi centinaia di pacchetti che ho spacchettato ancora faccio il trick e ancora mi godo carta per carta tutti i video che hai su youtube li hai persi tutti quasi ma io ce ne saranno due in quei eri ma io non ho mai trattato male ma non parlare ne mancano solo quattro ancora non riuscito niente ecco inizia a parte che il totale ne sono scelte 5 quindi non è tutto detto non è che c'è starà ancora tutto sto che anche spero almeno una bella full art che sia un po cosa di carino è qualcosa di carino e rimanere la faccia di dash e mi che porca miseria dovete vedere la faccia di lucrezia ecco adesso dovete vedere la faccia sua non può non può essere perché c'è trattando male ma guarda e l'altro ma non può farti trovare guarda che qualcosa di carino e lo so l'ho visto guarda se non è rapido porca miseria che spettacolo ce l'ha trovato appena detto non è l'alternativa questa la posso tenere io perché non si vede bene non lo so però questa la tengo io che aspettavo ho ricoverato è sta in vantaggio a c madonna quanto è bella questa è quella che volevo stupendo io volevo la foto l'alternativa però avreste dovuto vedere la sua faccia quando ho capito la situazione guarda so contento se te pareggio con avvi del cavolo si ma sempre non mi interessa quindi i punti sono punti collina bounce with venipede questo sì che è una soddisfazione non c'è niente vai avanti ci vai avanti non ci posso credi che ho trovato rapido ce l'hai chiamato oh l'ho chiamato veramente allora vai codice senti ritirati proprio inizio a fare video su youtube mi sa che è meglio magari se l'inizio a fa tu e io vengo a sfidarti poi sei un vinco no 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 mi sa che è una v però c'è qualcos'altro dai vabbè c'è no è una v max no è una v ancora in vantaggio puoi allunga con le v questa la dovevo trovare io per pareggio e invece non l'hai trovata dai sarà per la prossima volta intanto ho distrutto la slip non ti disperai allora stai a 6 6 a 4 devo trovare una v max dai una v max un bell'allenatore full art che ancora non è uscito o basta perché poi il resto ma lo sai che forse tre full art non c'è niente rotolo bellybeard dearling aaron blitzel e l'apras urshifu pluricolpo anche questa è la prima volta che lo troviamo carino però ragazzo voci come pluricolpo pluricolpo si perché c'è single colpo e pluricolpo e ce l'ha scritto colpo singolo no era pluricolpo come fai fare figuracce guarda che io ho letto colpo rapido vabbè sarebbe bene ah colpo rapido ho sbagliato colpo uguale vabbè comunque colpo singolo è rosso è quello che tipo lotta madonna se c'era qualcosa è meglio che non vuoi dire fuori vai codice 1 2 3 4 basta eh adesso devo trovare io una full art e una via e ce la portiamo a casa dai dai che vota tania eracros rals quill fish guarda le lancia pure le lancia via le lancia perché tanto lei è già sta già tranquilla no io ho già già la domina praticamente porca io posso dormire i sogni tranquilli a differenza tua codice vai vai speraci speraci non c'è niente non c'è niente c'è ma quanti ne trovo 200 carti trovo sempre aaron c'è prima di un pacchetto normale reverse no vabbè dai non posso perdo guarda se devo perde almeno trova qualcos'altro comunque sembra quasi che ha organizzato perché non ci crede che vinca sempre io 1 2 3 e 4 ci ho vinto la cosa la sfida quella lì con dragapult e crobat che ho trovato la black gold e poi sia negli elite sia nell'altro box e non stavo di no vedevo il brillantino però ho detto no è sicuramente reverse e questo che ce l'hai vinto tu e poi manca di che le abbiamo pesate lei le ha prese da adesso abbiamo veramente pescate a casa cioè vota e vota madonna mancavo a provare a fare il trick e no l'ho fatto il trick però ho sentito ho già visto il bordino cioè io ho finito con quattro punti e tu stai a 6 rinfrescami stai a 6 carino questo rapido che bello proprio dai trova qualcos'altro e almeno ci portiamo a casa a parte che sono sette carte però un bel box da 8 dai no vuoto mi sa cacuna fluffy si però tu non devi guardare anticipare perché mi porti sfiga cast form weedle volcarona e wheezing e niente ragazzuoli ha vinto lei ha vinto lei allora in questo box non sono uscite belle cartine perché l'unica figa è questa comunque nell'altro box era uscito un allenatore full art era uscito il calirex alternativo e invece qui è uscito solamente un rapido che v full art che è bellissimo comunque non è neanche molto 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 raro e poi raga tutte carte da 2 3 5 euro quindi non ci siamo tanto come box comunque vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate un like un commento noi ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi ciao